Ciao a tutti, possiamo avere di più di quello che abbiamo? Perché possiamo diventare di più di quello che siamo? Prima di affrontare questo tema, iscriviti al canale, seguimi sulla pagina Instagram Massimo Terramasco. Allora, questa è una cosa molto importante da capire. Quello che noi abbiamo, quello che noi possiamo raggiungere dipende da ciò che siamo. La realtà che andiamo a sperimentare all'esterno è prodotto della nostra realtà interiore. Non esiste soltanto un collegamento mente-corpo, ma, e questo è il fondamento della legge d'attrazione, esiste anche una connessione mente-realtà sperimentata. Io farò un corso non soltanto sulla legge d'attrazione, ma anche sull'autostima e sull'amore, sabato 14 dicembre 2019 a Genova. Quindi chi fosse interessata o interessato, il riferimento è 333 15 11 703. È un full immersion dal 9.30 al 19. Chi non potesse partecipare ai corsi, però, può abbonarsi al canale Massimo Terramasco. A livello top verranno poste anche le registrazioni dei video, più altri corsi, più lezioni mirate. Quindi un percorso di crescita personale molto, molto utile. Bene, detto questo, ti voglio far sottolineare questo, che quello che noi realizziamo dentro di noi lo proiettiamo all'esterno. Se abbiamo autostima, avremo, percepiremo un mondo di persone che ci rispettano. Se abbiamo disistima, percepiremo un mondo di persone che non ci rispettano, che ci mancano di rispetto. Le persone che hanno una forte autostima vengono rispettate. Non è che devono fare qualunque cosa. È la loro autostima che, come dire, manda segnali molto forti alle altre persone. Se tu ami te stessa o te stesso, non attiri persone che non ti amano o persone che vogliono soltanto sfruttarti in qualche modo. Non le attiri, non si avvicina neanche. Sono come la criptonite, diciamo, per Superman. L'autostima è, diciamo, la buona considerazione di se stessi, l'amor proprio. Ecco, quindi questo è da tenere presente. Quindi sono cose che vanno costruite. Purtroppo, o per fortuna, non lo so, vanno costruite. Perché se noi lasciamo andare le cose istintivamente, spesso siamo governati dai nostri turbamenti. Siamo governati da situazioni che poi ci danno più danni che benefici. Quindi è importante imparare a costruire la propria autostima. E siccome nessun pranzo è gratis, servono anche degli atti di coraggio. Devi fare delle azioni che in qualche modo vanno a valorizzare la tua autostima. Vanno a renderla, diciamo, vanno a far sì che la tua autostima sia una... Deve essere costruita. Quindi devi fare degli atti di coraggio. In amore è importantissimo questo. In amore è importantissimo rendersi conto che esiste un limite all'amore che si chiama dignità. Cioè tu non puoi dare credito a persone che non danno credito a te. Questo devi tenerlo presente, è un fatto fondamentale, basilare. Non possiamo dare credito a persone che non ci danno credito, a persone che non ci danno stima, che non ci danno considerazione. Ma dipende tutto da noi. Tutto questo dipende da noi. Se noi vogliamo avere di più, dobbiamo diventare di più. Se vogliamo avere una vita migliore, dobbiamo diventare migliori. Se vogliamo attrarre la persona giusta, dobbiamo diventare la persona giusta. Ecco, quindi, comunque, tutte queste, diciamo, metodologie pratiche, pragmatiche, le spiegherò a Genova nel seminario che farò sabato, 14 dicembre 2019, dalle 9.30 alle 19. E il riferimento, per chi fosse interessato o interessato, è il 333 15 11 703. Nel box comunque lascerò delle info. Chi non potesse partecipare ai corsi, però ricordo che ha sempre la possibilità di abbonarsi al canale, Massimo Terramasco, andando con un computer sulla home page, alla sinistra del tastino iscriviti, c'è il tastino abbonati, ti abboni. E a livello top dell'abbonamento ci saranno anche le registrazioni dei corsi, oltre che video, lezioni mirate. Bene, per questo video è tutto e mi raccomando, credi in te stessa, credi in te stesso. Perché se tu non credi in te stesso, come pretendi che gli altri possano farlo? Se tu non ti ami, come pretendi che gli altri possano farlo? Ciò che noi abbiamo dentro si trasferisce automaticamente all'esterno. Ricordati, alle persone che hanno autostima, nessuno manca di rispetto. Per questo video è tutto, seguimi sulla pagina Instagram Massimo Terramasco, iscriviti al canale e iscriviti al nuovo canale Felicità Benessere, di cui ti posto il link in descrizione. Ciao a tutti!